bella vecchi dragonitemi, grazie siamo tornati con un nuovo episodio delle random app che abbiamo visto che vi piacciono molto e abbiamo iniziato con quella lì di 1,2,3 più 4 quindi 5 più 6 1 più 2,3 uguale 4 vabbè poi abbiamo fatto quella lì con Dread e Frax che vi è piaciuta particolarmente quindi siamo tornati oggi qui per farne delle altre magari anche quelle che ci consigliate che volete quindi scrivete qui sotto nei commenti esatto e abbiamo scaricato due app quindi e una è Toilet Time che avete qui e la tre è Ardèst2HD cioè è il gioco più difficile difficile del mondo più bello sta vantando sì più bello non lo so lo diciamo a voi comunque cominciamo da questo sì voglio iniziare io però Orginos Studio vai play ok smettila di far il sole di cover play la visualizzazione di cover play non smettila chi avete il primo di far il sole di che hai perdito questo eeeeh sbattati senti che... no ho sbagliato ok 133 punti non so quanto sia eh non merda sicuro oh oh oooh incredibile quindi hai fatto schifo no world record è 254 hai fatto 133 non voglio careggiare con gli amici sono a sociale ah cab però capire i persi ah sa su carta e forbice vedi devo fare così a culo proprio no 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 che cazzo stai a fa' ok draw 30 è vero draw eeeh eeeh vince 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 a vince cazzo dal russo rica davanti dagli spavano tutto non vince schifo ho scopo schifo ho provato un'ora l'ora l'ora rosa roso o solta bene qua un po' meglio che ti fa uno che fa? grazie tante è buono pure te l'hai fatto ho capito perchè ve lo spingono che vedete te sta di cazzo e vabbè mo comunque si sto gioco è poco c'è vaffanculo va ma sto gioco lo sai comprato dai di averità allora dobbiamo fare in modo che lo moccelo non casca che non caschi dentro la minestrina che vuole mangiare devi premere di qua per andare a destra punto , sg stock sg horse barbara d da te dai che schifo no no che schifo un cazzo uno su due mazza del fenomeno guarda cosa ma tu di un baglio tocca al piede sinistro e adesso te ne devi mettere quelle è più bene possibile non è più facile fanno uno per uno no vabbè siamo cascati fanno uno per uno fatti cazzo tua fanno uno per uno no ma fanno ma che è che di nuovo lo cazzo no che cazzo no va uno su uno ho capito ma io non non so quanto finisce fai più piano che ti devo dire ok perfetto ahahah ma fa culo ma ahahah mi sta a dar cazzo dove sta te lo dico te lo dico ok a posto mamma mia ti stavo a uccide ok ok posso no per me si è meglio lento che me l'accompagnato certo giusto ok grete 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 è grandissimo grete gold anzi gold perfect vai 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 ancora 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 ok grete calco il punteggio perché avevo già fatto 10 volte guarda chi è la pippa ora stiamo due a due ah questo del gelato mi piace guarda manna del gelato mania ok che tocca fa? eh devi 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 ok 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 ok 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 vabbè la cazzata sto cosa 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ok 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 e 8 2 3 3 2 4 6 stupendo da navetta lo dico ooooh ff ma come? è schifo perché f fail? raga si è bloccato tutto quindi io sai che vi dico? cambiamo app si cambiamo app fanculo mettiamo toilet time start bisogna fare pulire ah devo pulire qua così a posto a posto è andata ok e come è andata? questo è la cosa difficile di questo è che non sai cosa devi fare so sette sei sei scusa ok sette fattile una per fai me non lo so quello vuoto scusa ah quello vuoto si eh di qua di qua di qua di qua bravo da paura mamma di Cristo ci fa una gamba non capirete un cazzo non fa veramente no 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 fare tutto tutto allora qui che devo fa? mi devo lavare le mani ok ok ci siamo dai eh non so che era roba con quella strana pezzi di pizza vomitati ehm vai connect no che cazzo fai? eh 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 ok il pesciolino è andato grande pesciolino anche un po' i pesciolini rossi tipo ti però questo è successo così che devo fa? finisce il business vai 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 clicca 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 ci siamo ragazzi grande soldi soldi pesce big money hold no no devi devi portare ma devo levare questa non ho capito un cazzo capisce cosa devi fa ok adesso dobbiamo capire dove va la fragola mamma mia canti 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 fai cancela 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 mamma mia fenomeno fruit ninja questo eh questi sono annini di fruit ninja ci per esempio chimiche radio davanti di fabio l'abile cugurio 10 photocopopopopo eme top 6 muo di male però nici nuovo se sono riuscita fuorка non vorrei riscita ci credi giochi persone riusciti giudicino i figli di quattro vedevo che per capire di vedere la vtc in quere di un cavolo in spettato acqua qua con il raffa con il rione il suo lavoro 30 no box 29 vabbè sarò fico questo è perfumato perchè sennò è finito finito e quindi ragazzi se vi è piaciuto quest'altro video di random ass lasciate un like e consigliateci qua sotto le app che vi piacciono a voi che vorreste vedere in un video in un prossimo video capito? quindi lasciamo 5.000 like se vi è piaciuto e me ne diamo! ciao!